Buonasera a tutti e benvenuti. Oggi è l'undici maggio, sono le dieci meno cinque di sera. Ieri era la giornata di Besac. Non so quanti di voi conoscano il significato di questa festa. Comunque è una grande festa per tutti i buddhisti perché in questo giorno, ieri, si commemorava la nascita, il risveglio e il trapasso del Buddha. Quindi una triplice coincidenza, una triplice commemorazione che fa di questa festa la festa buddhista per eccellenza. Besac è un mese, non ha un significato particolare, viene dal sanscrito e la parola significa diramato. E probabilmente allude alla costellazione dell'Ariete che il sole attraversa nel periodo in cui si celebra il Besac. Probabilmente. Adesso non voglio entrare in questa spiegazione che tutti sono convinti che in questo periodo ci sia la costellazione del Toro. Non è vero. A causa della precessione degli equinozi, cioè un fenomeno che tutti gli scolaretti dovrebbero conoscere, il sole entrerà nel Toro il 15 maggio. Quindi attualmente il sole sta ancora attraversando il segno dell'Ariete. La precessione degli equinozi a parte è una festa che festeggia tre momenti importanti della vita del Buddha. La nascita, il risveglio e il trapasso. È come se durante questa festa commemorasse il momento di passaggio da uno stato a un altro. Dallo stato non manifesto al manifesto con la nascita. Dallo stato di nascenza allo stato di risveglio con il pieno risveglio. Dallo stato di manifesto di nuovo all'immanifesto con il trapasso. Quindi effettivamente è una celebrazione di un passaggio, di un momento di cambiamento di stato. Ovviamente la festa è una festa importante e viene celebrata con processioni, con suoni danze, sventolio di bandiere, accensione di lampade. E' una festa molto bella, molto bella, molto allegra, molto sentita. Di solito durante la festa del Vesak tutti quanti si vestono di bianco e poi partecipano a queste processioni in cui vengono portate le reliquie del Buddha, magari sopra un elefante. Tutto molto folcloristico, molto bello. Noi celebriamo un Vesak molto modesto, un Vesak di pratica, un Vesak di risveglio. Perché, come dico sempre, noi non pratichiamo il raggiungere chissà che cosa. Noi quando ci sediamo, pratichiamo l'essere già svegli. Nel momento in cui noi entriamo in contatto, attiviamo questa vigilanza, che è assenza di pensiero discorsivo, siamo svegli. Quindi non è che il risveglio avverrà. Il risveglio noi lo attuiamo in ogni istante in cui siamo vigili. E non siamo travolti da prapancia, dal pensiero discorsivo, dalla proliferazione mentale, dal chiacchiericcio, dal dialogo interno. Non è difficile capire che cosa facciamo, però occorre veramente molta pratica per acquisire l'abitudine a staccare. Siccome ci è voluto tanto tempo per acquisire l'abitudine a stare con prapancia, altrettanto tempo, io mi auguro un po' di meno, ci vorrà per staccare e acquisire l'abitudine a stare con la realtà percepita. Ossia, come suggerito dal Buddha, con la realtà del nostro corpo, con la realtà delle nostre sensazioni, con la realtà dei nostri turbamenti e con la realtà dei pensieri che attizzano e interagiscono con i nostri turbamenti. Avere la mente sgombra, il famoso vuoto mentale, che sembra sotto vuoto spinto del caffè paulista, in realtà che cosa vuol dire? Quando noi parliamo di sciugna, ossia parliamo di vuoto, intendiamo la mente sgombra, così come si sgombra una stanza da tutto ciò che la ingombra, così vogliamo sgomberare la mente da che cosa? Da ciò che impedisce, impedisce la percezione della realtà così com'è, della realtà luminosa, sveglia della nostra mente. La nostra mente è già sveglia, abbiamo solo bisogno di creare le condizioni, di creare le condizioni per manifestare questo stato di risveglio. E per creare le condizioni in cui il risveglio si manifesti, quello che deve tacere è propancia, il dialogo interno. È così semplice e tuttavia non è facile. La differenza tra l'enunciato e la realizzazione è la pratica, ma noi non siamo qui perché vorremmo, arriveremo, raggiungeremo. Quando sento tutte queste frasi, queste formulazioni che implicano il raggiungere, il conseguire, il realizzare, realizzare è alla portata di qualunque istante della nostra vita. In latino si diceva animadvertere, rendersi conto, è un atto di risveglio. Solo che noi abbiamo attimi di risveglio che sono rari in un flusso di prapancia, cioè di attività incontrollata del nostro cerebro. prapancia che è dialogo interno, chiacchiericcio mentale e che ci porta via come un flusso di corrente e proprio ci distrae dalla percezione del momento presente. Perciò abbiamo bisogno di questa vigilanza. La sati, io credo, è la parola giusta per tradurla, è proprio vigilanza. Così come una sentinella è vigile, è presente e attenta. Sati è come appamada e la cura, così la sati è vigilanza. Ma vigilanza vuol dire una attenzione sostenuta di livello elevato in modo che ci sia questo livello di attenzione che impedisce di essere spresi di sorpresa. Chi ha praticato le arti marziali sa benissimo di cosa sto parlando. Ci sono, specialmente, non so, nell'Aikido, per quello che ho fatto io di esperienza, ci sono un sacco di esercizi e di pratiche che si fanno proprio per allenare questa percezione che va al di là della percezione ordinaria, in modo che si possa percepire, per vie sottili, anche l'intenzione di un ipotetico assalitore. Il vero praticante del bushido, del vero samurai, non può essere sorpreso. Perché se anche è seduto, è seduto vigile e prima che il suo eventuale assalitore si muova, lui ha già percepito l'intenzione di quello di assalire. Questa è Sati. È una completa, piena attenzione alla realtà percepita nel momento presente. Il mio cane è capace di questo. Come dico spesso, lui sembra che sonnecchi, ma in realtà è molto attento, è molto attento soprattutto ai rumori. I cani vivono, per loro i sensi hanno una gerarchia un pochino diversa dai nostri. Avete notato che le orecchie sono più in alto degli occhi. Noi abbiamo gli occhi più in alto delle orecchie, quindi vuol dire che gli occhi sono l'organo principale, mentre i cani hanno le orecchie più in alto degli occhi, vuol dire che per loro le orecchie sono l'organo principale. Poi hanno un vistoso naso, perché il naso è anche un organo percettivo per loro molto importante. Ma quello che ho osservato io del cane è che lui nei momenti di ozio evidentemente non apre pancia. Lui è occupato ad essere vigile. Quindi, anche se è rilassato, anche se è semi addormentato, ha comunque un'attenzione che gli consente di percepire una minima variazione nel movimento, nel suono, nello svolgersi dei suoni. Se è un suono del circostante, per esempio, io abito al piano terreno di una palazzina dove ci sono quattro piani, e quindi davanti alla mia porta passano tutti quelli che abitano nei piani superiori. E quindi sono diverse persone, perché tre appartamenti per piano fanno un certo numero di persone. Lui all'inizio, quando era cuccio, la baiava spesso. Poi dopo ha imparato a riconoscere i vari passi. Quindi se la persona è ormai consueta, lui l'ha acquisito, questo, non si muove e non si scompone. Ma appena entra un estraneo, pam, balza in piedi e comincia ad abbaiare. Perché? Perché non è più conforme alla, diciamo, alla quotidianità che lui è abituato a percepire come rassicurante. Dicevo, il cane è motivato dalla paura. Il cane, come essere che è ancora tanto del selvatico in sé, è vigile perché sa che dalla vigilanza dipende la sua vita. Non lo sa. È nel suo DNA. Vigile vuol dire vivo. perso, dormentato, vuol dire morto. Ma questo lo troviamo anche in quel famoso verso del Dhammapada che adesso lo cito a memoria. La vigilanza, l'attenzione è la via della vita, la disattenzione è la via della morte. Gli attenti non muoiono, i disattenti sono già come morti. Questo non è nemmeno un'indicazione, non è nemmeno un'esortazione, è un dato di fatto. In natura è così. L'animale vigile e attento è in grado di percepire, è nelle migliori condizioni per percepire l'eventuale minaccia. L'animale malato che non è in sensi, che è semi addormentato, è già praticamente morto, perché è già preda di un eventuale predatore, di un eventuale nemico. Perciò dicevo, il cane ha bisogno di motivare, non ha bisogno di motivare la sua vigilanza. Nel suo DNA c'è questa istruzione, questo codicillo che gli dice stai attento perché vigile vuol dire vivo. Noi no, noi abbiamo perso questa cosa, anzi, ci siamo innamorati di prapancia, ci siamo innamorati della proliferazione. Il dialogo interno è diventato un dialogo costante con questo che noi crediamo sia una specie di amico interno e invece è il nostro peggiore nemico, perché è quello che ci distrae dalla porta d'ingresso nella realtà che è la percezione. Noi non percepiamo più fuori come adesso possono esserci tuoni e fulbili, ma se siamo in prapancia non sentiamo più niente. Perciò noi abbiamo bisogno di automotivarci ad essere vicini. una cosa che è naturale per il cane noi abbiamo bisogno di metterci dell'impegno e questo è Samma Vajama il retto sforzo di cui si parla nel uno degli elementi dell'ottuplice sentiero. Se non ci sforziamo di essere vigili, se non ci impegniamo ad essere vigili, la vigilanza non viene da sé. Abbiamo bisogno di attivarla con questo impegno che deve essere retto, bisogna essere giustamente rettamente attenti perché se no bye bye non chissà che cosa, bye bye papancia, papancia è l'anticamera del sonno e sonno è l'anticamera della morte. Come diciamo argomento per la giornata del VESAC questo mi sembra abbastanza pertinente volevo però entrare un pochino in dettaglio quando noi siamo attenti siamo vigili in realtà che cosa facciamo? portiamo la nostra mente ad essere più attenta a che cosa? A sperimentare. La vigilanza non è un'attenzione focalizzata, è un'attenzione generalizzata pronta come quella del cane a cogliere qualunque anomalia ci sia in giro finché le cose sono quelle ordinarie che non esce dall'ordinaria amministrazione il cane non si attiva però se c'è qualcosa che fuoriesce un rumore un passo uno scricchiolio uno sbattere di una porta che non fa parte della cosa ordinaria subito c'è l'allarme allarme e questo è quello che fa una sentinella nel momento in cui c'è qualcosa allarme allarme cosa vuol dire avverti tutti gli altri di tenersi pronti perché c'è un attacco possibile allora in questa condizione di vigilanza noi siamo lì e che cosa facciamo siamo attenti a sperimentare con tutti i nostri sensi ciò che c'è così com'è ma non sperimentare una cosa perché abbiamo deciso di sperimentare quella cosa siamo genericamente attenti siamo totalmente attenti ma non abbiamo un preciso oggetto di attenzione nella vigilanza non c'è un preciso oggetto di attenzione tutto è l'oggetto di attenzione è ovvio che non possiamo essere attenti a tutto perciò come il cane possiamo imparare quali sono le cose che meritano che noi entriamo in allarme allora sperimentare adesso vi voglio leggere un piccolo solo un paragrafo per carità che è scritto da un filosofo giapponese interessante filosofo giapponese Nishida Kitaro della scuola di Kyoto una scuola filosofica molto famosa anche studiata nelle università in Italia comunque lasciando perdere i contenuti filosofici di questa scuola io vi inviterei a concentrarvi su questo brano che per noi può essere illuminante sperimentare significa conoscere le cose così come sono significa conoscerle mettendo completamente da parte i propri artifici ed essere guidati dalle cose stesse dal momento che di solito quando si parla di esperienza si comprende anche una certa attività mentale qui si indicherà con pura la condizione dell'esperienza come essa davvero è allora senza l'aggiunta del benché minimo pensiero o della benché minima riflessione allora lui parla qui vuole definisce quello che lui chiama esperienza pura per esempio quando vediamo un colore o sentiamo un suono l'esperienza pura è quella del momento precedente non soltanto all'aggiunta del nostro giudizio sul suono o sul colore circa la provenienza esterna di ciò che vediamo o sentiamo o qualunque sensazione che proviamo ma è precedente persino all'identificazione stessa del colore o del suono l'esperienza pura è quell'esperienza che noi facciamo nel momento in cui avvertiamo il rumore della pioggia come in questo momento per esempio e prima ancora di pensare il rumore della pioggia mi garba non mi garba siamo lì semplicemente con il fenomeno percepito senza giudizio e senza etichette esperienza pura è dunque sinonimo di esperienza diretta quando si sperimenta il proprio stato conscio il proprio stato vigile è la stessa cosa non c'è soggetto né oggetto questo è un punto importante per loro per chitaro è un punto importante dal punto di vista filosofico per noi è un punto importante dal punto di vista pratico cioè il soggetto e l'oggetto vengono all'essere nel momento in cui nasce il pensiero e il pensiero è noi lo sappiamo sagna l'etichetta il giudizio ma nel momento in cui noi siamo in quella dimensione in cui non c'è ancora non solo il giudizio ma nemmeno l'etichetta per il fenomeno che stiamo percependo cioè non l'abbiamo identificato non c'è ancora riconoscimento non si è attivato l'aggregato di sagna quindi non essendo si è attivato sagna non si è attivato neanche il sankara del giudizio che fa sì che mi garba non mi garba lo voglio non lo voglio che crea un'avolizione che crea il karma no noi siamo all'inizio di questa cosa nella pura sensazione pura proprio per questo viene detta esperienza pura vedana sarebbe nell'ambito degli aggregati il conoscere è l'oggetto della conoscenza allora sono la stessa cosa non essendoci il giudizio non essendoci l'etichetta nel momento in cui prima che sorgano queste cose noi percepiamo il fenomeno facciamo l'esperienza di una determinata cosa seppure anche il suono di questa campana abbiamo l'esperienza diretta cioè conoscere l'oggetto della conoscenza sono la stessa cosa questo come la chiamano è quella cosa di cui tanti parlano che vi sia ciascun lo dice dove sia nessun lo sa si chiama non dualità avete mai sentito parlare di advaita e di tutta la papancia filosofica che ci fanno sopra e qui la non dualità è trascendere la dimensione del giudizio e dell'etichetta si percepiscono le cose semplicemente come sono senza senza più alcuna mediazione ed è per questo che la percezione è diretta e quindi immediata perché non è più mediata non è più mediata dai nostri concetti no e dai nostri giudizi questa è la più pura forma di esperienza cioè aggiungo io insomma vesac è quella del Buddha il Buddha sperimenta le cose senza etichetta e senza giudizio ovviamente non pretendo che quello che vi sto spiegando sia la verità però è un punto di vista che penso possa valere la pena di prendere in considerazione specialmente per persone che stanno cercando sono in cerca di questa verità la verità che noi cerchiamo non è una verità filosofica metafisica una verità che spieghi tutto quanto ah finalmente adesso io so no no la verità è ciò che è vero ciò che è reale ciò che parla il linguaggio dell'evidenza ciò che si come dice Chitaro in questo in questo breve paragrafo che secondo me è un capolavoro filosofico significa conoscere le cose mettendo completamente da parte i propri artifici ossia il giudizio ossia l'etichettatura e tanto altro e lasciarsi guidare dalle cose stesse se io sento il fenomeno se io sento il rumore della pioggia il rumore della pioggia è già un'etichetta è un'etichetta senza giudizio ma è pur sia un'etichetta è un trascendere Nama e Rupa sì vai al di là di Nama e Rupa ma non è che c'è bisogno di arrivarci al di là di Nama e Rupa ci sei solo che Nama e Rupa ce li aggiunge immediatamente è lì il problema risveglio non è un aggiungere risveglio è un togliere per arrivare all'esperienza diretta bisogna togliere quello che noi aggiungiamo all'esperienza diretta cioè il giudizio e l'etichetta poi c'è l'etichetta con giudizio alle frittata già belle fatta quindi lasciare che le cose parlino il linguaggio dell'evidenza basta le cose già sono illuminate di per sé se noi siamo vigili e se siamo attenti possiamo percepire le cose così come sono in maniera non duale perché la dualità ripeto è attivata dal pensiero famoso non dualità la non dualità no pipponi filosofici di pagine intere ma la non dualità è la nostra condizione naturale se riusciamo a sospendere oltre al giudizio anche tutta l'etichettatura qua le voilà e questo è frutto di pratica perché il giudizio e l'etichettatura noi l'abbiamo appreso abbiamo appreso questo ci sono voluti tanti anni quando eravamo bambini e chiedevamo alla mamma e la mamma ci diceva l'etichetta la luce la lampadina il muro la sedia sì questo è la pappa questo è il papà questa è la nonna e poi questo quello è brutto cacca cacca quello non si tocca cioè ci hanno praticamente sulla base di quello che noi percepivamo non dualmente hanno costruito tutto un mondo duale fatto dal nostro pensiero quindi noi abbiamo bisogno di ritornare a quello che già siamo stati questo è anche il grande significato esoterico se volete mi permetto di usare questa parola che sta dietro il quel famoso detto di Gesù che dice finché voi non diventerete come questi piccoli non riuscirete ad entrare nel regno dei cieli e il regno dei cieli qual è il luogo il momento in cui noi non percepiamo la non dualità non percepiamo più la dualità e non percependo più la dualità c'è la non dualità ma la non dualità non possiamo percepirla perché se riusciamo a percepire questo non è duale allora vuol dire che siamo nella dualità capito dove casca ecco va bene sabbi ti ovi vajantù sabba rogovinassatù mate bava tvantaraio su chi diga iukubava bava tu sabba mangalam raccanto sabba deva sabba damma nu bavena sabba sabba tutta bava tu sabba mangalam raccanto sabba deva sabba sanga nu bavena sabba sottib avanti sottib